Si parte con la mobilità 2020-2021. La ministra Lucia Zolina attraverso la sua pagina Facebook annuncia il 23 marzo di sera la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale. Non poche sono state le polemiche, visto che questa ordinanza ministeriale non è stata data, consegnata ai sindacati. C'è stata una reazione sindacale netta di dissenso rispetto al metodo utilizzato dalla ministra. Anche politicamente forze di maggioranza hanno espresso la contrarietà e hanno definito questo un errore. Cioè la non concertazione con i sindacati sulla mobilità per anche politici e la maggioranza è stato un errore. Anche chiaramente l'opposizione ha protestato rispetto a questa modalità e anche per il fatto che i docenti non possono ricevere una consulenza adeguata per la mobilità. E c'è da dire che il ministro Zolina ha anche attivato e promesso di attivare piuttosto un help desk regionale per la compilazione delle domande. Dunque i docenti dovrebbero avere questo supporto dagli uffici immagino scolastici regionali. Tuttavia parte la mobilità. Vediamo le date che vengono indicate nell'ordinanza ministeriale. Per il personale docente si parte dal giorno 28 di marzo e si chiuderà il 21 di aprile per presentare la domanda di mobilità tramite istanze online. Il 5 giugno sarà chiusa la comunicazione al Sidi per gli organici e per la ricezione delle domande di mobilità anche quelle dei sovrannumerari. In quella data tutte le notifiche di convalida del punteggio saranno pervenute ai docenti. Il 26 giugno ci dovrebbero essere gli esiti della mobilità dei docenti. Per quanto riguarda il personale educativo invece le date sono dal 4 maggio al 28 maggio si potranno presentare le domande di mobilità per il personale educativo che il 22 giugno chiuderà la comunicazione al Sidi per gli organici del personale educativo e per quello che riguarda la comunicazione e la convalida del punteggio. Per il personale ATA invece saranno le domande potranno essere presentate dall'1 aprile fino al 27 di aprile. L'8 giugno chiuderà la comunicazione al Sidi per la convalida dei punteggi e per gli organici degli ATA e il 2 luglio ci saranno gli esiti della mobilità per il personale ATA. Per il personale educativo invece gli esiti della mobilità saranno il 10 di luglio. Il personale docente di religione potrà presentare la domanda dal 13 di aprile al 15 di maggio. L'1 luglio ci saranno gli esiti della mobilità per i docenti di religione. Non tutti i docenti purtroppo potranno presentare istanza di mobilità perché ci sono dei blocchi o triennali o quinquennali. Per quanto riguarda il blocco triennale a chi tocca questo blocco? Chi non potrà presentare la domanda di mobilità? La domanda di mobilità non la potranno presentare quei docenti che hanno ottenuto nella mobilità dell'anno precedente una sede scolastica che avevano indicato come preferenza puntuale nella mobilità dell'anno precedente. Per cui il docente X che nell'anno 2018-2019 aveva fatto domanda di mobilità su una precisa scuola ed è stato soddisfatto su quella scuola e dunque titolare dall'1 settembre 2019 in una data scuola che aveva indicato come preferenza puntuale, sarà bloccato per tre anni, non potrà fare domanda di mobilità. Come? Tra l'altro chi quest'anno vuole fare la domanda di mobilità e verrà soddisfatto eventualmente in una preferenza puntuale rimarrà bloccato per tre anni nella scuola dove arriverà. Ci saranno anche i blocchi quinquennali per i docenti per esempio per i fit 2018 che con il dm 631 sono entrati in ruolo e stanno svolgendo l'anno di prova in questo anno scolastico che c'è dall'1 settembre 2019, stanno svolgendo l'anno di prova. Questi docenti saranno bloccati per quest'anno e per altri quattro anni successivi a questo. Non potranno esprimere più la domanda di mobilità per un quinquennio dunque. C'è da sottolineare che invece i docenti fit che sono entrati in ruolo attraverso il decreto direttoriale di DG 85 del 2018 e quindi hanno fatto l'anno di prova a tempo determinato ma nel 2018-2019 e che adesso hanno avuto confermata la sede a partire dall'1 settembre 2019, questi docenti saranno svincolati dal blocco. Potranno esprimere anche loro la domanda di mobilità e poi tutti i docenti potranno fare tranquillamente la domanda di mobilità. Continueremo a fare dei video tutorial sulla compilazione della domanda nelle giornate prossime per cui vi invitiamo a seguirci sul canale youtube, a seguirci sul sito www.tecnicascuola.it e speriamo che le nostre indicazioni vi potranno essere utili. Arrivederci!